sono contento che la serie della programmazione di un videogioco su amica piaccia non so se porterò a termine la programmazione di un gioco ma farò vedere a grandi linee che cosa è interessante fare che cosa bisogna tener conto allora intanto voglio farvi vedere una testimonianza dal quale è rimasto scioccato il nostro affezionato utente che praticamente gli ho suggerito di fare questa semplice cosa ho detto guarda anche se hai un solo ccd devi capire che è un 6 core 12 3 come il mio processore devi capire che 6 core sono fisici quindi reali e 6 sono logici quindi è evidente che se io sposto il gioco sui 6 core reali quelli fisici il gioco va più veloce se un confronto che se lo metto anche su quelli logici infatti ecco la sua testimonianza che è rimasta a bocca aperta ve la leggo ho lasciato 6 core accesi su 15 priorità al massimo non mi aspettavo che funzionasse anche sul mio ryzen 9 nonostante il 22 h2 windows 11 pro ho testato apposta cyberpunk perché uno dei radissimi giochi che trovavo scattosi rispetto ad altri con impostazioni fsa superiori bella soddisfazione fallo presente nei prossimi dove chi usa un ryzen 9 7940 hs w con una radio 780 m ecco come avete visto questo suggerimento semplice funziona quindi anche se avete un solo ccd anche se avete l'x3d spostate la priorità ai primi 6 8 core e gli altri la arrivate al videogioco mettendo l'affinity e mettendo la priorità in tempo reale e vedete le prestazioni che salranno ha visto aumentato i frame rate ma soprattutto quello che ha visto aumentato e io lo ringrazio di questa testimonianza è la fluidità e la stabilità del 1% avete visto quanto ci vuol poco a fare le cose in teoria dovrebbe farlo windows dei programmatori ma windows chissà come funziona vabbè andiamo avanti con le news di amd questo è strano la biostar fa vedere una nuova revisione della rx 580 2048 sp sarebbe presente nel compute unit sei anni dopo l'original launch a che serve sta scheda video questa è una scheda è bellissima più che altro più che da collezionisti perché è basato sul sui core vega ma scusa polaris e 10 quindi praticamente roba che neanche più supportata ufficialmente da amd questa scheda dicono che a 150 watt di tbp è a meno circa 40 per cento più veloce di una 780 m secondo 3d mark time spy è l'architettura polaris poi dopo avvenuta bel vega quindi questo può essere interessante per chi vuole fare collezione magari fare un mercato più avanti di vendita e compravendita di vintage ecco ora cyberpunk ha avuto ufficialmente il supporto fsr 3 con il xs 1.3 il dl alla di invidia purtroppo c'è chi ha provato il fsr 3 è inferiore all fsr 2.1 non è stato implementato molto bene ovviamente supporta anche il frame generation e devo dire che ancora una volta continua ad essere migliore su invidia perché questo è come dicono poster child praticamente è una demo invidia sponsorizzata invidia è normale che dicono che sulle cpu ibride l'utilizzazione del simultaneo su multi thread l'smt di md è stato migliorato però se avete questo gioco e ci giocate con un processore md fate sempre quella cosa manualmente se avete due ccd spostate sempre l'affiniti sui primi 6 8 core levate tutti gli altri e vedete le prestazioni che salirà avete visto quella bellissima testimonianza sempre parlando di md ha annunciato il fidel di super resolution 4.0 o 4 come lo vede praticamente utilizza la generativa l'app scaling un po come il dl ss di invidia non ne sappiamo molto non si sa molto aspetteremo novità quando usciranno probabilmente è qualcosa che magari è stato sviluppato anche in concomitanza con sony che tira fuori il suo pss r per la playstation 5 pro probabilmente la stessa cosa con differente nome anche quello è basato su lia vi ricordo che il chip di la ps5 pro è un misto tra ride radeon 3.5 4.0 e si parla che la cpu non gira a 3.8 giga ma forse aggiunge 4.1 anche di più l'hanno croccata di più perché hanno visto che è meglio ecco gli sviluppatori probabilmente hanno cominciato a bussare ne sapremo di più fra pochissimo dicono che il team ci sta lavorando da 9 12 mesi e di più non si sa danno di dati un po qui un po lì sempre parlando di upscaling adesso passiamo agli md ryzen i7 pro 360 che ha 8 core è il primo chip consumer che uscirà con 8 core questo è basato su zen 5 vedete il 365 attenzione a 10 core 4 zen 5 e 6 zen 5 si questo qui ha una configurazione un pochettino differente eccola qua sempre tutte queste belle si eccolo qua un processore 8 core 16 thread probabilmente sarà un 4 4 vediamo cosa si dice ovviamente la gpu è una rdna 3.5 a 12 core quindi abbastanza buonina 880 m integrata è la quella leggermente sotto la purtroppo il costo del sistema è intorno ai 1700 dollari il thinkpad è il primo ad averlo però md dovrebbe utilizzare la versione kraken o kraken come lo vogliono chiamare una versione un pochettino più economica che dovrebbe andare a finire nei laptop a partire dai 799 800 dollari forse in giù forse in su per rispondere a qualco però diciamo che come vedete le prestazioni ci sono e non c'è nulla questo ryzen 7 e quell'altro è la i9 forse un ryzen 9 lo chiamano sempre basato su zen 5 quindi della configurazione 8 core 16 thread 5 gigahertz la 880 m 12 si come configurazione top xdna 250 top il tdp 15 40 54 watt a seconda della configurazione sempre parlando dei ryzen lo strixalo è stato addizionato alla md rock m sarebbe praticamente la risposta di md a invidia del suo cuda e c'è che pure ha fatto il port in cuda con questa roba e funziona molto bene rock m tutti sono molto soddisfatti e vi ricordo che lo strixalo e come vedete è un multi ccd e vedete c'ha due ccd di zen 5 e la rd 3.5 questa è la versione a 40 si è quindi diciamo che la più potente anche il supporto avvx 512 vedete il chip due il design dual chip simile al granit rage e a 16 core zen 5 fino e questo è un telefeature di quello che supporta ovviamente avrà un bel boost di prestazioni perché con la vx 512 di supporto non sarà non indifferente sempre parlando dei portatili md come vedete ci hanno dato giù è uscito la o star gem 10 370 è un altro mini pc che ha lo strix come processore è ovviamente potenziato che altro dire va avanti con la md rise ai 9 hx 370 quindi il top della gamma questo quindi questa roba qui spinge e mi immagino che questo mini pc il gem 10 270 non è che costi poco però sono davvero fantastici 0,6 litri è la grandezza interna vediamo un po che ci dice qualcosa in più sulle prestazioni per qui ci sono tutte le specifiche poi leggerete con calma eccolo qua vedete il gem 12 pro è leggermente più grande gli acs vabbè queste erano quelle vecchie dateci quelle nuove non ci interessano questo è il gem 12 e questo è il gem 10 guardate qua come l'hanno ridotto insomma non male è 10.7 x 10.7 x 6 centimetri queste sono le misure eccole qua la i hx 370 c'ha un 12 core 24 3d una configurazione di r dna 3.5 con 890 la m come graphic card e praticamente dovrebbe essere 16 su quindi non male per giocare ecco qua 7500 mhz delle pddr 5x anche lì si comporta molto bene e che piace 50 tops di questa cagata della ai insomma un passo avanti confrontata alla precedente linea che aveva il zen 4 ancora parlando sempre di i mini pc anche la b link presenta il suo nuovo next gen sr 9 mini pc con rizer 9 hx 370 questo costa non tantissimo 990 dollari 99 vabbè mille dollari mille euro e praticamente la configurazione penso a parte la dotazione che gli fanno esternamente è la stessa perché il processore è lo stesso lato anche questo davvero interessante come mini pc 80 tops 12 core 24 3d zen 5 e 5.1 ghz di velocità come vedete non male r dna 3.5 890 m come precedente che raggiunge fino a 2900 megahertz e questa qua è un 19 32 per cento più veloce di r dna 3 confrontata la r dna precedente ad attuale stanno a 3.5 qui ci danno alcuni benchmark e poi vi rivedrete tranquillamente insomma una bellissima macchina senza spendere tanto adatta anche a giocare poi con le nuove tecnologie che esco f sarap 4.0 direi che uno si può divertire senza spendere soldi a iosa e quindi tutte le configurazioni anche le pddr5 7500 include 32 gigabyte siamo messi bene anche la sulla memoria diamo le 65 watt di tdp massima ovviamente quando uno abbassa le pretese può andare anche giù in pratica presente tutto questo pc consuma come 9000 7x ryzen 5 e zen 5 c'è un bel guadagno insomma qui ecco diciamo questa qui due colori ci dicono vediamo le specifiche volevo vedere le dimensioni 13.5 per 13.5 per 44.7 quindi è 135 milioni sono 13 centi un po come quell'altro questo un pochettino più sottile 4.4 invece di 6 centimetri però un gran bel pezzo d'ardora ancora strisalo l'avu ovviamente anche una volta ottiene il supporto m rock lo rivediamo anche un'altra parte e offre la totale compatibilità con la vx 512 per grandi performanti qui dicono 512 guidate che cosa significa che la vx 512 in teoria sono le multimedia estenso che hanno registri a 512 bit quindi non sono emulati 512 come in altri processori ma esistono realmente i registri a 512 bit costano farli però le prestazioni dico vabbè ovviamente questa può aumenta molto molto la le prestazioni dovuto a un aumento di banda passante delle sissi x vediamo se ha ovviamente queste con 40 con più di unite non male eccola qua avx 5 vgpr vediamo un po che dice qualcos'altro in più supporto per m rock qui vedete è criptato perché scritto in cinese però si legge avx 512 ccx m rock eccolo qua e qui vedete tutte le specifiche di questo mostro stixalo che non scherza 40 si vede quasi ci fanno i mini pc o le console con questo la gente si compra sta roba qui invece deve una console tdp 120 watt non tantissimo è leggermente minore del il 97 96 sbloccato con la ges quello nuovo bella bestia ancora la su secolo qua lascia la ges 1.2 punto 0.2 bios per la x 670 e la b 650 e la b 650 e addiziona il moto tdp 105 watt per 9.7 9.6 ok non significa che raggiungono i 105 watt è sbloccato avete visto nei giochi raggiungono i 50 watt quando stanno sotto carico perché non riescono a sfruttare tutti i 105 tdp però li hanno sbloccati a mio avviso se magari uno overclock con dissipatore migliore o con come dire è l'azoto liquido questo è più per overclocker forse 105 watt uno li vede perché ovviamente la corrente non viene dissipata in calore ma in energia ok una cosa voglio chiarire questo dovrebbe essere abbastanza chiaro guardate quante schede madri vengono supportate poi lo leggete perché è una cagata l'ho detto in altri video che non si può sentire il processore al massimo raggiunge 80 watt di consumo con il precedente bios con questa attuale può raggiungere 105 l'energia quando viene trasformata in calore non diventa più energia ok viene dissipata in calore infatti uno dei cruci di tutti quelli che producono l'hardware che scaldano e di chi producono i motori endotermici o anche gli altri turbo fan perché hanno una resa davvero pessima adesso dicono sono raggiunti alcuni motori al 50 per cento mediamente stiamo intorno al 12 15 17 per cento di resa ok tutto il restante dell'energia emessa viene dissipato in calore e perso calore non è uguale energia era energia e non ritornerà energia si può utilizzare per far bollire l'acqua e far morire il turbino ok ma non di più per inciso le centrali nucleari sono dei bollitori nucleari per chi non lo sapesse non fanno cose incredibili barre dentro l'acqua l'acqua bolle produzione energia che poi non è produzione ma la captazione di energia perché se è vero nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma l'energia non si crea quindi dovrebbero dirci da dove viene l'energia ecco tante domande che ancora devono trovare risposta ancora md il rete 5 7.6 x 3d vcash è disponibile in cina dal 20 di settembre ok noi non stiamo in cina però è da vedere che md sta sbloccando mano mano il rilascio di questa cpu più per alcuni retailer o per alcuni venditori tipo quelli grandi in america o tipo questi qua in germania tipo micro center in america ecco hanno visto che questa cpu c'è una grande richiesta costa poco intorno a 200 euro dollari e va forte leggermente più lenta del 9.800 il prossimo best buy sarà questa cpu ovviamente questa è molto più utile per il gaming che per la produttività per la produttività è meglio rimanere sulla versione x perché tutti i core vanno alla frequenza maggiore sempre che ovviamente l'applicazione riesce a utilizzare tutti i core mi raccomando comunque sia se fate anche roba professionale potete provarlo magari ci fate un bel report e lo mettiamo a disposizione tutti sapete questi processori quelli a multi ccd versione x non versione x 3d mettete sempre l'affinity all'applicazione per i primi core perché i primi core sono quelli fisici e non quelli logici in teoria se dovrebbe essere fatta giusta dovrebbe essere così fate conto avete un 12 core 24 3d se i core fisici se i core logici se i core fisici se i core logici quindi quelli dei fisici ma potete fare delle prove perché do cadere windows come li mette in lista dateli all'applicazione che volete dargli potenza quelli logici la strada del sistema operativo così avrete molte più prestazioni vedete che il tdp di questa cpu 65 watt è però la cpu rimane intorno a 50 watt in gaming quindi difficilmente raggiunge va oltre 60 watt quindi pensate un bell'overclock un bel dissipatore una bella pasta madre come cacchio spinge su questa cpu ancora md la i300 pro finalmente è stato visto sui lenovo thinkpad l'abbiamo visto prima la i300 variant che però costa un pochettino vediamo se questa versione ce la danno un po di meno qui sono tutte le specifiche di prima 880 ai gpu quella vedo male il nome e qui ci melano altro che vasellina per comprarlo la ipdd r5 7500 65 gb beh certo la dotazione non scherza lo schermo dovrebbe essere alla grande vediamo se mi dice qualcosa sul peso 1.6 per 1.2 la risoluzione calcolando che un laptop picco dovrebbe essere con quanto un 13 o un 14 e no 1.7 o 1.754 a secondo se c'ha la md o la qualcomm dentro o point beh non male questa roba comunque quando caleranno i prezzi di questi strix secondo me md farà il botto nel senso positivo perché veramente vanno potenti e non consumano neanche tanto 28 watt 15 15 ddp 54 watt a secondo della il 330 il zen 5 con 20 e 32 megabyte di l3 e 8 rdna 3 più di siu questo sarebbe perfetto per me per fare letting anche se prendere l'otto coro perché il 6 cor già ce l'ho quindi facciamo un upgrade dai ancora md è terminato il supporto per la prima e seconda generazione di ryzen e 3 drip in ryzen master praticamente md ormai non lo supporta di più quindi il zen 1 zen 2 come lo io qua e i primi thread rip quindi mettiamoci l'anima in pace ovviamente vanno avanti perché se non hanno tantissime risorse quindi non puoi ovviamente dilatare troppo gli anni di una cpu stanno parlando tantissimi anni fa e quindi devono concentrarsi sulle nuove ci sta anche l'importante che se tante volte dovesse uscire qualcosa o trovassero qualcosa di grosso e forte insomma facessero dei cambiamenti ancora md la md a md fluid motion frame 2 e il variable graphic memory è stato adesso disponibile per ai 300 che cos'è questo memory variable graphic memory praticamente la possibilità di allargare la finestra della memoria video con la memoria di sistema e sembra che tutte queste due cose le messe insieme aumentino le prestazioni del come dicono qua del 78 per cento certo perché ci sono i frame fake vorrei dire quello non non facciamoci prendere per i fondelli non è che magicamente succede l'ira di dio il flui di motion frame è quello è frame interpolation ovviamente si avvantaggia dell'architettura del punto 5 dell'anti lag 2 e questo dovrebbe essere attivabile letteralmente da driver e quindi neanche c'è bisogno per forza del supporto diretto vedete in cyberpunk 78 per cento più di frame uno strix ai 9 370 quindi il top di gamma e lotte 90 m fanno sempre bene poi noi con il nostro trucchetto ci aggiungiamo più prestazioni perché ricordate che anche se avete questo spostate sempre l'affinity sui primi core che sono quelli fisici sono quelli che hanno più prestazioni in pratica si potrebbe vedere un boost non indifferente vedete che praticamente la variable graphic memory aiuta e lascia all'utente la possibilità di allocare più memoria per la grafica integrata ok quindi se prima è un po una sorta di restable bar soltanto attivabile anche per la apu imprega la memoria può essere addizione fino a 512 megabyte che puoi andare oltre 512 di default e qui vedete dal pannello di controllo addirittura 8 oppure gigabyte altrimenti si può mettere questa sono trucchiata 8 di 32 ovviamente le prestazioni aumentano perché la ram è un collo di bottiglia lasciamo perdere le chart di amd o di nvidia o di qualcomm che fanno ridere andate a vedere tutto il test come li fanno poi c'è da ridere però le prestazioni ci sono e ci saranno sicuramente tutti l'hanno visto l'aumento con la md la mfm il fluid motion frame questo è totale però purtroppo lo scheduling di windows fate quel trucchetto sempre mi raccomando qui trovate il link anche dei driver da scaricare l'ultima notizia di amd per oggi ha lanciato ovviamente la 12 gigabyte la rx 800 m che ha gli stessi compute unit della ps 5 pro e della 7800 xt quella desktop ok allora che cosa ci dà questa qui di più è per i portatini ha dovrebbe avere buone prestazioni però ricordate la differenza della ps 5 pro non ha il retracing avanzato ok quello dei rdna 5 però le prestazioni non sono male tocca vedere il prezzo e i consumi c'ha 30 working group 60 computer quindi dovrebbe essere 4096 o 5 mila ecco qua 3840 st in processo scusate fondato oltre 4000 e quell'altra vi vedete che la gpu c'ha 96 rop è un massimo fill rate di 560 giga text è un picco di fp 32 16 da 335 e 71 teraflop 35 fp 32 71 fp 16 questa fu una cosa che fece praticamente md tempo fa è praticamente la stessa unità che fa la fp 32 può fare contemporaneamente due calcoli fp 16 vi posso garantire che in alcune applicazioni la differenza occhio non la vedete soprattutto se uno mantiene i numeri la scala compresa numeri molto bassi ma la differenza è difficile che si vedano queste differenze soprattutto fate conto per le texture lontane le geometrie lontane fp 16 è più che sufficiente ovviamente la frequenza di 2145 mhz che è molto più bassa del 2400 della 7800 dovuto al suo tdp più basso che è esattamente 180 watt invece di 263 ovviamente la prestazione non è un pochettino queste sono le ricapitolazioni delle notizie vediamo un po ovviamente ok questa è prettamente per i portatili e chi vuole qui ci sono alcuni benchmark che poi vedrete la 7800 m si piazza leggermente sotto la 7900 m e batte la 4070 laptop di nvidia e questa è tutta la line up ok per oggi siamo arrivati alla fine di queste news di amd potetele oggi che domenica io la sto registrando di sabato così quando volete vi fate una scorpacciata di queste ultime novità vorrei poi ovviamente rimettiamo la clip del nostro amico ricordarvi una cosa un conto sono i numeri e un conto l'applicazione l'hai visto quanto ci è voluto proprio ad aumentare le prestazioni con i ryzen solo settando l'affinity mi raccomando diminuite la priorità cioè degli altri task ma aumentate la vostra a real time poi se non avete bisogno della rete staccate l'antivirus levate la rete mettete in modalità aereo e levate il firewall e vedete che le prestazioni saliranno ancora nel prossimo video per amica vi anticipo questo parleremo della gestione della memoria qualcuno è rimasto scioccato da cui dove sono partito per fare un videogioco ovviamente ho tralascia tutta la parte di game design di brainstorming perché non voglio fare un pippone ma vedrete che una cosa importantissima ancora prima di arrivare a far vedere i vari flussi del menu e del gioco la gestione della memoria e vi dirò anche tante analogie di quello che ci è successo è anche uno dei problemi che potrebbero avere dei videogiochi moderni ed è una cosa poi che consiglierò anche ai programmatori di qualsiasi piattaforma di fare quello che vedrete in quel video perché è davvero importante per la stabilità per la sicurezza e per le prestazioni mi fermo qui vi ringrazio ancora lasciate un like commentate iscrivetevi e ci vedremo al prossimo video buona domenica a tutti